E buongiorno appassionati di gemme, il mio nome è Matteo e vi do il benvenuto all'interno del mio canale dedicato alla gemmologia, ai cristalli minerali e soprattutto alle gemme. Nell'arco di questo episodio, il quale fa parte di una playlist più ampia chiamata Realizza la tua prima gemma andremo passo a passo a realizzare il padiglione e la cintura della mia gemma la quale è una tormalina rubellite di un col rosa alquanto limpido che ho già preformato nell'episodio precedente al quale vi rimando. Infatti all'interno di questa playlist ho voluto dedicare molto spazio partendo da zero quindi partendo dal design digitale di questa gemma fino alla scelta del materiale nello scorso episodio la sua segagione preformatura in primo incollaggio e oggi andiamo insieme a realizzare le faccette del padiglione passo a passo. Quindi per tutti i colori in quali sono qui per imparare a tagliare le gemme sono nel posto giusto e per tutti i colori in quali invece sono curiosi di come si realizzano le gemme sono di nuovo nel posto giusto. Vi auguro quindi buona visione e iniziamo subito col tutorial. Questo è il prodotto del video precedente, ve lo lascio qua sopra in dettaglio. Abbiamo scelto una tormalina grezza e l'abbiamo preformata e successivamente l'ho incollata. come vedete la mia gemma in questo momento ha un aspetto alquanto grezzo il mio obiettivo è quello in questo video di realizzare il padiglione cioè le faccette inferiori e vi insegnerò anche utilizzare i grafici di taglio oltre che il braccio della Ultratec V5. Questa è la mia postazione di sfaccettatura, è molto semplice comprende un tavolo, la reattiva sedia terapeutica per la mia schiena perché forza a star seduto fidatevi che pian piano vi verrà mal di schiena e soprattutto si suddivide in due principali porzioni la porzione dedicata al taglio, in questo caso quella che vedete è una vaschetta a paraspruzzi e soprattutto il perno centrale metterà in movimento un disco che tra poco vi spiegherò questo braccetto è il cuore pulsante della macchina perché come vedrete grazie a questo braccetto che riusciremo nella realizzazione della gemma a partire dal nostro grezzo. Questo è il nostro minerale grezzo incollato sul supporto per inserirlo all'interno della macchina è molto semplice per inserirlo all'interno della macchina basta svittare leggermente questa brugola e di conseguenza si inserisce all'interno del suo supporto Voglio farvi notare che prima di chiudere questa brugola questo supporto tende a muoversi infatti come notate intorno a quella sede vi è un piccolo cilindretto e il fondo di quel supporto inoltre ha un angolo 45 gradi inserendo questo dopo all'interno del suo supporto tenderà solo in due posizioni a stare in sede provare per crederci in questo caso il profilo è circolare non è importante la sua orientazione e chiudo la brugola Abbiamo sistemato la gemma nel suo supporto ed estrarremo quella gemma da tale supporto solo alla fine della realizzazione del padiglione Adesso voglio spiegarvi brevemente che cosa è questo questo non è nient'altro che un disco da taglio infatti nell'arco della lavorazione delle gemme è necessario rimuovere volume a partire da una gemma iniziale chiamata grezzo e il volume viene rimosso grazie all'abrasione attraverso dei dischi da taglio in questo caso specifico quello che ho in mano è un comodo semplice dischetto diamantato con una grana 360 questo è il mio disco di taglio per quanto riguarda la sbozzatura come noterete nell'arco di questa lavorazione utilizzeremo ben tre dischi questo è il primo non è nient'altro che un dischetto il quale verrà posto in movimento dalla mia sfaccitatrice ha un diametro alquanto ristretto tenete presente che tanto più sono larghi tanto tenderanno di solito a vibrare il diamante è solo posto in questa sottilissima superficie diciamo in circa un millimetro il resto invece è un supporto in alluminio fidatevi che è alquanto pesante e ovviamente come vedete sono ancora delle macchie d'acqua perché l'ho usata prima di registrare questo video per il taglio di un'altra realizzazione perché questo disco si avvale dell'ausilio di acqua pulita in generale lo scarto durante la lavorazione verrà poi rimosso dalla forza centrifuga che tenderà a sbattere verso l'esterno ecco perché qua vi sarà il parasfruzzi l'acqua che cade invece al centro adesso installiamo questo disco sulla macchina vi insegno come farlo passo passo e vi sarà tutto più chiaro è molto semplice prendiamo il nostro disco lo mettiamo in questa porzione in questa posizione e lo chiudiamo con questo componente io lo tendo a chiuderlo a mano ma si potrebbe anche chiudere accendendo la macchina fate attenzione che qui sia molto chiuso non troppo eccessivamente però è giusto e adesso ho installato il mio disco questo non è nient'altro che il settore velocità tenete presente che io non supero di solito mai il 6 e il 7 perché poi oltre l'8 o il 9 inizia proprio a vibrare la macchina al tavolo leggermente di conseguenza le faccette non vengono proprio precise per la lucidatura invece di solito si fa ruotare il disco a velocità minima o al limite tra i 4 di nuovo per lo stesso discorso abbiamo l'accensione quindi adesso la macchina è spenta adesso la macchina è accesa e poi abbiamo la rotazione clockwise e anti-clockwise senso orario, senso anti-orario e in questa posizione verticale invece di nuovo spenta in questa maniera il disco gira in senso orario a velocità 1,5 e così posso aumentare adesso vi mostro i risultati aumento velocità poi abbasso velocità senso anti-orario aumento velocità abbasso velocità mi raccomando quando cambiate il senso vi spiegherò poi che cosa serve chiaramente abbassate sempre la velocità altrimenti potreste sgranare la macchina nel massimo cioè un danno argomento grana del disco allora di solito questi dischi sono caricati di diamante l'abrasione consiste nient'altro nel processo in cui due minerali uno è la vostra gemma che volete sfaccettare e l'altro invece è l'abrasivo vengono in contatto il minerale più duro rimuove abbrade il minerale più tenero il diamante è uno dei minerali più duri e di conseguenza viene chiamato abrasivo e viene posto di sopra di questi dischetti quindi il braccetto non è nient'altro che il componente della sfaccettatrice tale per cui vi metterà a contatto precisamente la faccetta desiderata con l'abrasivo e di conseguenza man mano che il processo continuerà la vostra scultura prenderà forma chiaramente questi dischi sono caricati con diamante di diversa grandezza, dimensione e diametro tanto più il diamante sopra questi dischi è grossolano tanto più l'abrasione sarà intensa forte, veloce e di conseguenza taglierete più in fretta ma non starete uccidando starete invece sbozzando al contrario tanto il diamante più fine microscopico non visibile ad occhio tanto il potere abrasivo tenderà a diminuire le righe saranno meno profonde fin tanto che la faccetta addirittura le righe non saranno visibili neanche alla lente e quindi otterrete una superficie a specchio in questo caso si chiama luciatura all'interno di una scultura quindi che cosa si fa si va a sbozzare la forma generale si vanno a rimuovere le righe e si vanno a lucidare tutte le faccette ognuna di queste tre fasi necessita di un disco ad hoc ci sono alcuni dischi che montano diversi diamanti spiegheremo in video in futuri ma questo è l'abc quando parlerò di disco di sbozzatura oppure dirò dei numeri come 360, 400 grit, 600 sto intendendo un disco di sbozzatura questi dischi sono molto molto comodi per quanto riguarda le fasi iniziali di taglio vi permetteranno di sbozzare le faccette in poco tempo con egregi risultati anche in termini di precisione ma i diamanti al di sopra sono molto grandi questo è il contrario della luciatura la luciatura invece richiede un disco di solito 50.000 fino a 100.000 vi insegnerò in futuro cosa significano questi numeri in un video ad hoc dettagliato per ora prendete questa scala di riferimento come tale quindi tanto il più numero è basso quindi un disco tra i 60, 400 siamo nella sbozzatura volete rimuovere le righe? siamo intorno a un 1.200 fino a un 3.000 un 4.000, un 5.000 volete lucidare? siamo tra il 50 e il 100.000 questo è il mio processo però ci sono molti altri tagliatori che utilizzano altri processi alcuni di questi funzionano meglio del mio non lo metto in dubbio non sono qui a criticare i processi di nessuno sono qui però a condividere la mia esperienza nel caso in cui utilizziate un altro processo vi farebbe piacere sentire le vostre disposizioni i vostri consigli qua sotto in descrizione del video ora è il momento di impostare la prima faccetta zederata e poi iniziamo a tagliare abbiamo realizzato questo design tra il primo e il secondo episodio il numero 1 di questo canale un po' come la numero 1 di Paperon dei Paperoni la prima moneta in questo caso la gemma di Leonardo da Vinci non è niente altro che questo rebus fatto di legno ma mi sembrava un buon modo per illustrarvi passo a passo come realizzare questa morfologia sotto forma di gemma come prima gemma a interno del mio canale quindi queste non sono nient'altro che le istruzioni questa è la proiezione di questa gemma dall'alto dal fianco da sotto e di nuovo dal lato vi ho già spiegato in un video precedente vi lascio qua sopra in dettaglio tutta questa procedura di disegno questi parametri per ora li lasciamo perdere e andiamo invece solo a utilizzare le istruzioni di taglio che sono queste qua adesso vi insegno passo passo come impostare le faccette del P1 le faccette del P1 possiedono un'inclinazione 41 gradi 99 e sono ben quattro faccette e corrispondono a queste quattro faccette 1, 2, 3 e 4 quindi andremo a eseguire queste quattro faccette e successivamente vedete che si parte all'alto e si scende nel corso delle istruzioni andremo a eseguire le P2 con l'inclinazione 39 e in particolare sono 1, 2, 3, 4 queste faccette fanno parte del padiglione infatti come notate la sigla è P di pavillon e infatti stiamo guardando la posizione inferiore della nostra gemma in poche parole le P1 sono queste faccette e le P2 invece sono queste altre faccette lungo gli spicoli in questo episodio voglio anche realizzare la cintura questo è il selettore dell'inclinazione quindi una volta che abbassano il bracetto vedete che il numero cambia di conseguenza potenzialmente può arrivare anche allo zero in poche parole alla verticalità per eseguire la tavola in alcune occasioni utilizzo questo parametro per la tavola ma questo è un contenuto del prossimo video iniziamo adesso a realizzare il padiglione quindi secondo le nostre istruzioni l'inclinazione era 41,99 quindi all'interno di questo selettore dovrò leggere 41,89 e per farlo mi avvalgo di due strumenti questa vite micrometrica che gestisce i centesimi di grado e soprattutto qua c'è un'altra vite sganciando questa vite questo componente si muoverà a piacimento e andrà a toccare questa stessa sede della medesima vite questa vite è un corpo unico e passa attraverso il bracetto stesso questo componente state muovendo deve essere sempre a contatto con questa vite quindi lo mettiamo a contatto circa all'altezza desiderata all'incirca intorno a 41,99 è pressoché impossibile azzeccare il primo colpo precisamente questo parametro chiudo questo componente in maniera tale che vedete tocchi e di conseguenza qua siamo circa 41,16 dobbiamo arrivare però a 41,99 adesso andiamo ad aggiustare il tiro grazie alla medesima vite ma dalla parte alta quindi questa parte bassa serve nient'altro per diciamo arrivare all'incirca intorno al parametro dell'inclinazione corretto e la maggioranza delle volte invece aggiusterete il parametro solo con questa vite di precisione infatti questa vite qua più o meno riesce ancora ad aggiustare 2-3 gradi e ha una precisione del centesimo di grado muovendo pochissimo questa vite vedete riesco anche a gestire proprio il centesimo quindi abbiamo settato l'inclinazione e adesso voglio invece inserire la faccetta corretta qui abbiamo già messo il dop, la gemma, la colla nello scorso episodio abbiamo già chiuso la brugola questa mi raccomando deve rimanere chiusa adesso non ci rimane altro che scegliere la faccetta desiderata tenendo con un dito in alto questo componente qua il quale è collegato a una molla possiamo far ruotare la ghiera questa ghiera qua si può cambiare e non è nient'altro che un angolo giro di 360 gradi ma diviso per motivi di spazio in questo caso specifico in un set standard di 96 tacche le tacche partono dalla numero 1 e arrivano fino al numero 96 questa per esempio è la 95 per esempio questa che in questo caso vi sto facendo vedere è la 47 è chiaro che è più semplice la 45, la 42 o la 39 perché in questo caso specifico c'è il numero sotto ma tenete ben presente che ci sono anche tutte le tacche intermedie di solito quelle indicate sono quelle più utilizzate comunque non ve l'ho ancora detto ma questa ghiera era anche indicata nello stesso modello delle istruzioni vedete che sono indicate le varie tacchette in particolare il 96 indica la ghiera di riferimento quindi accendiamo la nostra macchina di solito utilizzo un senso orario aggiungo l'acqua in questo caso attraverso questo drip tank l'acqua è come un'acqua del lavandino aggiusto questo componente in maniera tale che l'acqua goccia goccia cada verso l'interno perché poi deve fluire verso l'esterno e non solo mi lubrifica il disco bassandomi a temperatura durante il taglio quindi la colla ad esempio rimane dove dovrebbe rimanere bensì anche scarta moltissimi degli scarti presenti durante il taglio goccia goccia aggiusto tramite questa ghiera la caduta e poi con un ditino pulito mi raccomando sempre la pulizia è importante spando l'acqua ok il disco rotazione l'acqua è presente l'inclinazione è già corretta tutte queste fasi verranno fatte pressoché in automatico durante la vostra opera ma adesso in questo video voglio spiegarvele passo passo a questo punto non mi rimane altro che avvicinare il braccetto con questo componente qui può muoversi lungo la sua guida mi avvicino circa al disco a questo punto circa siamo lineati non mi rimane altro che abbassare il braccetto finché tocca il disco di abrasione che è laggiù quando toccherà il disco sentirete rumore chiaramente alzo la velocità chiaramente maggiore velocità significa anche maggiore abrasività e minor tempo di lavorazione e tenendo il braccetto con le dita qui la sua guida faccio questo movimento utilizzando più disco che posso perché chiaramente non posso solo andare a usurare un pezzo del disco devo cercare di usurarlo tutto ugualmente e come notate ho già realizzato la mia prima faccetta primordiale ma il concetto è quello che da qualche parte bisogna pure partire come questo videocorso adesso vado a realizzare le quattro faccette e discutiamo un attimo del da farsi in poche parole per realizzare le quattro faccette non intendo nient'altro che continuare ad abbassare questo parametro con un senso anti-orario di conseguenza l'inclinazione aumenterà ma via via che la gemma verrà a brasa tenderà a diminuire vedete e quindi tornerà al parametro originale che ho impostato cioè 41.99 ci si impiega abbastanza chiaramente posso aumentare la velocità per ridurre i tempi verso l'esterno il disco tenderà leggermente a vibrare quindi di solito l'utilizzo del disco che eseguo è di solito la parte più o meno centrale questo è il risultato preliminare della mia prima faccetta come notate tutte queste righe che appaiono sulla faccetta non sono nient'altro che il risultato del processo di sbozzatura all'incirca mia faccetta dovrebbe arrivare verso l'asse della mia futura pietra adesso voglio andare a scolpire le altre faccette man mano che scolpirò le altre i tempi diminuiranno perché il volume che ho rimosso in questa faccetta non è più presente nel taglio delle successive quindi non voglio nient'altro che arrivare adesso a formare quattro faccette in poche parole una piramide per cambiare faccetta è molto semplice basta con il pollice tenere verso l'alto questo componente a molla e di conseguenza ruotare fino a prossima faccetta la 72 vi ricordo che ci sono quattro faccette da fare la 96, la 72, la 48 e la 24 mantenendo la stessa inclinazione questo non lo vado più a toccare perché queste quattro faccette fanno parte della stessa procedura su TR e hanno la stessa profondità quindi in poche parole semplicemente continuo la mia procedura devo rimuovere ben un grado abbondante da questa faccetta per arrivare al dunque ricordate che dove viene scolpita la faccetta è sempre l'opposto del reattivo numero quindi 96 qua sopra ma la faccetta 96 qua sotto è sempre l'opposto quindi questa faccetta qua è la numero 72 ho spento la macchina e voglio farvi vedere il risultato della procedura del primo tier in poche parole il primo set di istruzioni queste sono le mie prime quattro faccette le P1 vedete di so prima che utilizzo anche uno scottex e per pulire le faccette quando le alzo dalla macchina perché se no sono bagnate non riesco bene a vedere chiaramente queste faccette devono chiudere tanto più possibile in maniera precisa in poche parole devono essere allineate come notate in questa maniera qua ed è per quello che uso le lenti per essere molto preciso perché si va d'occhio tanto più tocca al disco tanto più la faccetta scende in profondità perché ricordate che questa è una procedura di scultura adesso devo fare il prossimo tier quindi riporto le faccette sul 96 qui oltretutto c'è un piccolo aggancio analogico facendo così rimane lì e così il braccetto vedete che non si sposta più prendiamo le nostre istruzioni di nuovo le prossime faccette sono le 39.02 questo design è già stato concepito per la tormalina ma voglio dare un attimo un occhio in particolare all'angolo critico perché questo numero non deve essere sotto l'angolo critico adesso vi spiego in qualsiasi libro di taglio che si rispetti in questo caso nel brown ci sono a inizio queste tabelle alquanto illeggibili vi spiegherò poi un video in futuro in dettaglio cosa significa ma adesso vediamo queste tabelle a puntista pratico qui abbiamo i nomi dei minerali qui abbiamo l'indice di rifrazione non ci serve in questa occasione il double refraction di nuovo non ci serve ma noi serve il nome del minerale e trovare di conseguenza il suo angolo critico noi stiamo lavorando una tormalina e l'angolo critico varia da 36.89 gradi a 38.29 ecco perché utilizzo GemCast Studio perché mi calcola questi angoli in maniera automatica questo numero in poche parole deve essere maggiore di quelli che vedete qua chiaramente ogni minerale ha il suo angolo critico e di conseguenza in creazione sul padiglione 39.02 è maggiore 38.29 e di conseguenza siamo a posto proseguiamo ho eseguito le prime quattro facce adesso voglio eseguire le altre quattro come prima andiamo quindi a mollare questa ghiera qua cerchiamo un nuovo angolo che è 39.02 quindi ci avviciniamo circa 39.02 nel caso in cui toccassimo il disco dobbiamo salire con l'altezza del braccetto 39.02 ho chiuso circa 39.36 e quindi con la vite qua dietro vado a 39.02 la prima faccetta inoltre è la 12 ricordatevi questa istruzione c'è un google drive con tutte queste istruzioni gratuite ve le fornisco io man mano che le facciamo insieme e di conseguenza di nuovo devo arrivare a toccare il disco metto in moto la macchina toglie un po' di acqua andava molto veloce abbasso la velocità a questo punto conviene di toccare il disco pian piano perché andrò a mangiare l'angolo ma devo arrivare fino all'apice non devo andare oltre se no dovrò rifare anche le faccette prima questa è la mia faccetta che sto facendo adesso ve la mostro più in dettaglio la pulisco e questa è la mia faccetta man mano che procedo nella scultura questa faccetta si ingrandisce a spese delle altre devo arrivare fino a quel punto lassù gioco su questa ghiera di nuovo in senso antiorario e via via che a brado vado a vedere spesso la mia gemma fin tanto che la prima gemma sia fatta come si deve e le altre di conseguenza avranno già la ghiera impostata quindi sarà facilissimo eseguire le altre una volta che la prima sarà eseguita e questo è il risultato la prima faccetta è stata fatta vedete che è diversa rispetto alle altre molto più piccola ma soprattutto come le altre arriva al centro cioè all'apice della mia gemma dove il padiglione si riduce in un unico punto adesso dovrò eseguire la 36 alle spese di questo spigolo e di conseguenza ogni spigolo che vedete dovrà diventare una faccetta questa ghiera non la tocca più perché impostata la prima faccetta non si tocca più tutte le faccette verranno perfettamente identiche proprio grazie alla precisione della Ultratech questa macchina funziona bene una volta che la prima faccetta è impostata le altre verranno di conseguenza e questo è il risultato ho fatto tutte e quattro le faccette del mio padiglione sono solo sbozzate la precisione vedete questa faccetta è un po' più grande delle altre non è il massimo ma tenete presente che devo ancora ripassarle col 3000 alcuni lascierebbero la gemma circolare ma ricordate che io devo fare la cintura non posso lasciare questo profilo circolare era il profilo che più si avvicinava quindi è solo il momento di fare la cintura sempre con questo disco la cintura non è nient'altro che una serie di faccette che hanno un'inclinazione di 90 gradi quindi di nuovo andiamo a mollare leggermente questa ghiera ci avviciniamo a 90 gradi chiudiamo la ghiera ci avviciniamo a 90 gradi di conseguenza muoviamo il braccetto e dobbiamo andare a lavorare solo su questa parte del disco e per farlo dobbiamo tirare giù parte del paraspruzzi diminuire un pochino l'acqua perché se no ci bagniamo ci sporchiamo tutta la macchina e non il massimo andare più piano del normale e di conseguenza scendere di nuovo di profondità fino a trovare le condizioni adatte il disco non deve toccare il supporto in ottone il disco non deve toccare la colla il disco deve solo toccare la gemma quindi vado giù vado giù 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 finché tocco il paraspruzzi non deve toccare il braccetto quindi questa è una condizione che magari faremo un video in futuro ancora faccio un po' di abrasione e vado a vedere la faccetta e questa è la mia prima faccetta in cintura e questa qua lungo il lato esterno del mio ex cilindro questa deve allargarsi fino a toccare gli spigoli ecco la mia prima faccetta della cintura è fatta vedete che è una superficie piana come le altre faccette devo fare le altre 4 riguardo le più 1 e queste facce da cintura sono molto importanti perché poi mi serviranno come vedete nel prossimo episodio anche per tracciare le altre faccette in corona fatta una si fanno le altre 4 e tra poco faccio vedere il risultato e questo è il mio risultato per quanto riguarda la cintura e sostanzialmente la proseguizione delle stesse faccette ma lungo il lato della gemma che si chiama cintura la prossima fase sostanzialmente vado a riprendere tutte queste faccette con l'altro disco cioè il 3000 per rimuovere le righe e questo è il risultato di tutte le faccette quindi le mie 8 in corona le mie 8 in padiglione 16 in totale una volta che le ho pre lucidate in poche parole ho rimosso buona parte delle righe in quanto il disco di lucidatura non riesce a avere a che fare con tali righe dovrei veramente star molto di più in lucidatura la lucidatura che io eseguo è a secco e di conseguenza scalda la pietra la colla si disfa ed è un casino quindi in poche parole è meglio rimuovere le righe tra sbozzatura e lucidatura con un disco adatto siamo arrivati alla lucidatura del padiglione la lucidatura è una fase critica nel taglio delle gemme questo è un corso base vi userò giusto delle procedure base di conseguenza ma la lucidatura è una di quelle cose che non esiste proprio da un puntista base quindi bisogna chiaramente avere un punto di partenza è quello che avrete oggi nel caso in cui fosse il primo video che vedete però sappiate che dovrò fare e vorrò e desidero fare molti altri video in futuro per quanto riguarda la lucidatura perché una volta che la gemma sarà terminata significherà che tutte le faccette in padiglione corona perlomeno dovranno essere lucide quindi una lucidatura scarsa eseguite male inficherà anche su tutto il lavoro a monte che avete fatto invece al contrario in caso in cui diventate veramente molto bravi nella lucidatura ecco che avrete molte soddisfazioni questa era la mia impostazione per rimuovere le righe in poche parole adesso dovrò rimuovere tutta questa parte perché non mi serve più questa spugnetta che vi insegnerò in un altro video che cosa significa e cosa serve la rimuovo, la metto qua a lato di conseguenza vado anche a spostare questi due componenti per il paraspruzzi l'acqua l'ho già chiusa per non sprecarla rimuovo questa porzione di conseguenza vado ad aprire qua rimuovo il disco cambio lo scottex il quale è abbastanza lurido per l'ucidatura bisogna lavarsi le mani avere uno scottex dedicato quindi già me lo preparo e me lo metto qua di fianco a questo punto faccio una procedura che non tutti fanno infatti è conveniente oltremodo togliere il paraspruzzi il fatto che la Ultratec abbia un paraspruzzi di gomma molto semplice da togliere e rimuovere scolo giusto un attimo l'acqua è molto 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 comodo pulisco velocemente la macchina in caso in cui ci fossero delle aree particolarmente sporche questo accade specialmente per pietre particolarmente grandi di pezzatura questa è una pezzatura media però comunque qualcosa di sporco l'ha fatto e di conseguenza metto il mio disco di lucidatura un disco in rame con una pastella diamantata fai da te che ho imparato molti anni fa a fare un piccolo segreto del mio laboratorio che vi condividerò nelle prossime puntate a questo punto rifacciamo la stessa procedura di prima quindi in poche parole andiamo a lucidare la faccetta 96 questa qui con un'inclinazione di 4199 accendiamo la nostra macchina ma con una velocità bassa ci avviciniamo il disco la porzione che sto utilizzando per la lucidatura è questa qua dove manca un po' di pastella io lavoro sempre a contatto tra dove c'è il rame esposto e la pastella la pastella è ricaricante rispetto al disco e mi avvicino finché tocca al disco sto lì un paio di secondi tocco leggermente la pastella e salgo la faccetta una volta lucida e soprattutto mossa rispetto alla lampada ecco perché utilizzo una lampada dovrà avere questo aspetto riflettente in poche parole dovrà sembrare una sorta di specchio è chiaro che riuscite anche a vedere all'interno una gemma finalmente tutte le altre faccette devono avere un aspetto simile a questa nel momento in cui ci fossero le righe o un'opacità rimasta lassù dovete giocare sull'inclinazione e invece sui lati si utilizza il cheater e su tutte le altre faccette e vi faccio vedere il risultato questo è il prodotto della mia lucidatura con un panno con un sottile velo di alcol vado giusto a pulire le faccette per farvi vedere il risultato chiaramente è molto interessante è venuta particolarmente bella chiaramente ci sono un po' poche faccette rispetto alla mia media ma non vuol dire che il design venga meno bello del resto la gemma di Leonardo adesso molliamo la brugola e di conseguenza estraiamo la gemma abbiamo terminato la realizzazione del padiglione ci siamo spostati nella mia postazione di trasferimento di DOP utilizziamo quindi il mio allineatore come ieri vi ho insegnato inseriamo all'interno il supporto in ottone lo chiudiamo qui deve essere anche allineato e adesso dobbiamo andare invece a sistemare un altro DOP per il trasferimento l'obiettivo è quello di incollare il nuovo DOP e poi domani invece scollare quello precedente per lavorare poi la porzione superiore che si chiama corona scegliamo quindi tra questi DOP liberi quale si avvicina di più alle dimensioni desiderate probabilmente direi questo qui lo inseriamo quindi dall'altra parte lo chiudo ma non troppo perché deve poi scorrere una volta che aggiungo la colla vedete che il DOP comunque deve essere sempre leggermente inferiore rispetto al diametro della pietra non esageratamente superiore in quanto poi nel taglio vedrete che andrete poi a mangiarvi il vostro sessottone nel massimo quindi vi metto circa in questa posizione mi preparo la colla in collo come ieri la colla UHO Plus di nuovo 1 a 1 le proporzioni circa 0-3 carati metto ancora un po' del primo componente chiudo e secondo componente il trasferimento con colla è un trasferimento molto semplice facile, veloce effettivamente anche efficiente oramai ha preso il piede anche se comunque la ceralacca è il metodo tradizionale però si avvai di fiamme e in questo caso la colla si vale pochissimo di fiamme chiaramente la colla ha un costo maggior rispetto alla ceralacca di solito un astuccio di colla da 20 euro mi dura 100 gemme quindi si parla di centesimi di costo per gemma questa parte qua la ceralacca invece si può anche addirittura riutilizzare in alcuni casi mescolo un attimo circa per 10 secondi due componenti e poi li prendo la pongo sopra il supporto quello nuovo e dopodiché spingo leggermente fino ad arrivare a toccare la gemma la colla deve ricoprire tutta la parte tra il supporto e la gemma e questo è il mio risultato quindi ho messo la colla tra la gemma e il padiglione che ho appena eseguito e il nuovo supporto per togliere questa colla vi spiegherò nel prossimo episodio come fare ma fidatevi che è alquanto semplice questo strumento si chiama allineatore e mi permette di allineare i supporti in maniera molto precisa quello che finora abbiamo utilizzato e quello che utilizzeremo successivamente perché nell'episodio successivo andremo a lavorare l'altra porzione della gemma fino finalmente a vedere il risultato momento lascio riposare questo per una notte mi rendo conto che questo episodio è stata una vera e propria guida completa per quanto riguarda la realizzazione delle gemme perché andando finalmente a mettere le mani sulla Ultra Tech V5 vi ho spiegato passo passo tutti i vari processi e procedure in un video è molto non è tutto assolutamente abbiamo appena toccato la punta dell'iceberg nel caso in cui fossi interessati in uno strumento del genere in quanto lo utilizzerò in moltissimi altri video in futuro in questo video che vi lascio adesso sopra in evidenza vi racconto la mia esperienza di acquisto e soprattutto quanto l'ho pagata c'è PO Grazie a tutti.